sono benvenuti a sto cazzo video comunque ieri ho perso la partita ma come cazzo si fa in vantaggio di due reti facciamo schifo due reti al primo tempo 2 a 0 da davanti poi siamo crollati clamorosamente ma come cazzo si fa la ripresa è merda secondo tempo che tu avevamo cessi adesso siamo spariti dal campo ora la classifica si fa un po' preoccupante che Barcellona è primo Borussia a 7 noi a 4 e lo Stava Braga si pensi da merda a due punti ho fatto i punti solo con noi con il pazza quindi alla fine tecnicamente ho trovato un po' il cazzo però la classifica è recitata questa quindi o vinciamo la posta con lo Stava Braga se no rischiamo l'eliminazione e al primo turno sarebbe un disastro clamoroso comunque alla fine si giocava ma è un vantaggio Martino si colla le hai sbagliate per concludere sul 3 a 0 però alla fine il primo tempo era stato ottimale poi il secondo tempo non si capisce come come cazzo abbiamo fatto tutti i bleccati Kimi il giapponese ha fatto soppietta ma come cazzo si fa lasciato colpevolmente solo ha segnato lasciato colpevolmente quindi si capisce alla fine troppe errori pure difensivisti anche perché facciamo errori proprio da sbilanciamento tattico invece questi si devono commettere comunque scrivete questo cazzo siamo avvelenati avvelenati come cazzo si fa una sconfitta che rimette tutto e rimescola tutto la posizione in gioco rimescola tutte le chance del turno ma alla fine dove hanno arrivato i conti almeno di dal bar se noi facevamo come all'anno scorso diciamo nuovamente mi sembra una beffa di merda questa uscivo al primo turno nuovamente quindi ci abbiamo cercato di passare il turno ad andare più avanti possibile in coppa di campioni poi la rosa vabbè può essere corta larga ma il giocatore alla fine a gennaio qualcosina pur se è poca roba ci sta sempre quindi bisogna sempre sfruttare l'occasione sbagliata un'unica che vedo la stagazione sbagliata a un brocci